Quali gli effetti sull'ecosistema marino nel medio e lungo termine? Quale rischio per la sicurezza dei cittadini? Quale tutela del turismo? Punti interrogativi che hanno spinto 17 comuni delle province di Ancona e Macerata a dire no ai rigassificatori previsti a Falconara e Porto Recanati. Solo nella provincia di Ancona si sono compattati 13 amministrazioni, l'ente Parco del Conero e alcuni comitati cittadini, per un totale di 300.000 abitanti, un quinto della popolazione della regione Marche. Anche la provincia si schiera al fianco delle istituzioni locali con un no tecnico. La provincia ha invece evidenziato alcune carenze a suo avviso tecniche che si sono verificate nelle procedure. Questo sia nella via, chiedendo la riapertura della procedura di valutazione di impatto ambientale sul rigassificatore di Falconara, l'unico sul quale la provincia è competente e anche ha evidenziato numerose problematiche sulla procedura di autorizzazione integrata ambientale. Motivi ecologici, ambientali e tecnici contro i rigassificatori. I comuni chiedono il rispetto del piano energetico regionale. È un no definitivo ai due progetti, davanti alle coste marchigiane, nello spazio di 30 chilometri. Tocca alla regione raccogliere adesso le loro istanze, in sede di conferenza Stato-Regioni, nella cui seduta del prossimo 27 aprile è già stata rinviata la firma sull'intesa. Chiediamo alla regione un impegno maggiore, un impegno preciso, perché oltre al posticipo dell'incontro ci possa essere un no successivo. Due progetti simili, ma istruttorie diverse. Il rigassificatore di Porto Recanati non ha ricevuto l'ok della valutazione d'impatto ambientale, che invece ha avuto quello di Falconara. I comitati e il PD cittadino sono preoccupati della situazione che si verrebbe a creare in un territorio già ad alta criticità ambientale. Siccome questo territorio ha delle strutture tali sulle quali si può fare anche un rigassificatore, passi questo messaggio. Noi diciamo invece che non vogliamo assolutamente un altro rigassificatore a Falconara. Noi diciamo che deve essere alleggerito dal punto di vista ambientale il territorio e dobbiamo ricordare che se sfortunatamente ci sarà un rigassificatore a Falconara non possiamo non pensare che ci sarà anche la megacentrale.